È stato inaugurato un Morales contro la violenza di genere realizzato all'Istituto di Istruzione Superiore Sebastiano Mottura di Caltanissetta durante uno dei due PON, cioè un programma operativo nazionale effettuato dagli studenti all'interno della scuola insieme ad una mostra fotografica, alla presenza della dirigente dell'Istituto Laura Zulli e alla dirigente dei servizi amministrativi Gabriella Ristuccia. Due progetti insieme per migliorarci e il laboratorio di fotografia che in 30 ore hanno coinvolto gli studenti dell'ultimo anno. Tra le attività dei due corsi gli studenti sono stati coinvolti in uscite didattiche alla scoperta del centro storico della città. Durante le uscite hanno messo in pratica le nozioni di teoria e tecnica fotografica da allevare alle aree riqualificate come il quartiere Providenza per riscoprire la propria città. Il laboratorio di fotografia è stato guidato dal docente Fernando Barbieri mentre il progetto Morales è stato curato dalla docente Maria Stella Celestri con la collaborazione delle assistenti all'autonomia e alla comunicazione Carla Mayra e Rossana Brancato.